Il medico pediatra in pensione Calogero Patanella di Grotte ha appena pubblicato e presentato a Grotte il suo saggio intitolato Potere Mentale senza riserve. Il libro è sostanzialmente diviso in tre parti. La prima parte parte dall'uomo così com'è, con i suoi pensieri, con le sue emozioni, con un elemento fondamentale che è la volontà che è acquisa dal timore di una nave e può guidare dalla direzione della vita che ognuno vuole prendere. La cosa fondamentale è la scoperta dell'energia vitale. Quando siamo pieni di energia vitale ci sentiamo bene, ma la vita che ogni giorno noi facciamo porta alla perdita, allo stress dell'energia vitale che si verifica con depressione ed angoscia. Viene proposto alla fine della prima parte la meditazione come elemento fondamentale per prendere coscienza, prendere maggiore consapevolezza di se stesso e del proprio mondo interiore per acquisire l'energia vitale. Facendo la meditazione che viene proposta con una tecnica semplice e allora l'individuo può scoprire che dentro se stesso ci sono altre realtà, compreso anche la realtà spirituale di cui si parla molto bene nella seconda parte. Nella seconda parte si parla della costituzione dell'individuo con le emozioni, gli istinti, ma anche si parla di religione, di fisica, di metafisica, si parla anche di una visione di Dio alla luce delle nuove scoperte scientifiche di fisica. E comunque le caratteristiche fondamentali sono che Dio è luce, che Dio è eterno, che Dio si comporta come una persona che ci vuole bene. Nella terza parte, che è una parte più di approfondimento, è una parte che porta ad obiettivi ancora più elevati e ci sono delle considerazioni anche scientifiche sul tempo, sul passato, sul futuro e sul presente, che è quello che è il nostro possesso potere modificare. Poi ci sono le conclusioni alla parte finale, in particolare mi preme di sottolineare che questo libro è diretto a tutti, è però concepito principalmente per i giovani, per i giovani nella fase dell'adolescenza, perché l'adolescenza è un periodo particolare di passaggio dall'età infantile all'età adulta, dove si deve formare la nuova personalità e quindi si sviluppa pure il pensiero astratto, mentre prima il pensiero era logico infantile di tipo bambino, di bambini e allora la mente degli adolescenti è affollata da molti pensieri. Oggi la scuola, la famiglia e anche forse la chiesa non sono più dei punti di riferimento per l'adolescente, quindi gli adolescenti si trovano nella loro solitudine ad affrontare questa fase particolare, per cui è facile che cadano in prenda e abbiano degli influsso negativi e quindi se non si sviluppa una personalità forte, l'adolescente va incontro ad atteggiamenti devianti.